E' una richiesta che rischia di far saltare tutti i già difficili accordi e che potrebbe costringere l'Aquila, o meglio la sua partecipata ASM, a trovarsi un'altra discarica nella quale conferire i rifiuti già dal prossimo mese, perché la PEC con la quale ASM ha chiesto i soldi indietro a Coggesa sotto forma di credito d'imposta per il presunto pagamento in eccesso della tariffa rispetto al contratto sottoscritto sembra quasi una provocazione visto che proprio quelle tariffe a 110 euro a tonnellata sono state motivo di furibondi scontri tra i soci Coggesa e dell'interessamento della Corte dei Conti che sulla gestione dei rifiuti ha ora aperto un'inchiesta. Ma andiamo con ordine, nel 2018 ASM sottoscrive un contratto di 5 anni con Coggesa per conferire i rifiuti a Sulmona al costo di 110 euro a tonnellata, meno di quanto pagano i soci virtuosi, a differenza dell'Aquila che virtuosa non è, con una raccolta differenziata sotto il 40%. Nel 2021 però l'Assemblea dei Soci di cui anche ASM fa parte decide di modificare quella tariffa troppo bassa, portandola a 120 euro a tonnellata. ASM chiede per sei volte un confronto all'allora Governance per discutere dell'aumento, ma non ottiene risposta. Nel settembre 2022 quindi la stessa partecipata aquilana avanza una proposta di transazione riconoscendo di voler pagare 117 euro a tonnellata per i rifiuti conferiti nel 2021 e 2022. Anche qui però nessuna risposta. Nel frattempo a dicembre scorso scade il contratto quinquennale e ASM resta formalmente senza un gestore al quale conferire. Coggesa, che nel frattempo vede cambiare Governance, concede una proroga tecnica con l'impegno da parte di ASM preso a fine di pagare a conguaglio la tariffa che dovrà essere ancora approvata dall'Assemblea e che indicativamente sarà per l'Aquila di 136,50 euro a tonnellata. La settimana scorsa però, venendo meno agli impegni presi nell'incontro di gennaio, la ASM fa recapitare una richiesta di rimborso a Coggesa, pretendendo di pagare per il bienio 21-22 105,66 euro a tonnellata. Cifra che non è chiaro da dove si è uscita e che la partecipata dice essere quanto previsto dal contratto. Una differenza di 15 euro a tonnellata che per i due anni ammonterebbe ad oltre 600 mila euro di restituzione. L'amministratore unico Franco Gerardini ha ora risposto con un secco no. Gli accordi vanno rispettati o l'Aquila si può cercare un altro buco dove mandare i suoi rifiuti. Quello di Chieti, d'altronde, dove da un paio di mesi per l'argine messo da Gerardini, scarica il 20% dei suoi rifiuti tal quale gli costa ben 165 euro a tonnellata. Una guerra che non conviene a nessuno, soprattutto al capoluogo, tanto più che la Corte dei Conti ha ora acceso un faro su quanto è accaduto negli ultimi cinque anni a Coggesa.